Allora Denise, ti ricorda qualcosa a questo posto? Allora Mira, cosa vuoi dire a Denise, la tua sorellina? Che lei adesso lo guarda questa cosa qui, cosa gli vuoi dire? Che io ero triste E perché sei triste? Perché, perché Denise se ne è andata Perché Denise se ne è andata, non toccare che mi scassi la macchina fotografica Perché Denise se ne è andata, ma lei è andata a farsi una bella vacanza, lo sai? Adesso che torna ti porta delle cose bellissime, tu lo sai questo? Ti porta le bambole Guarda Denise, guarda com'è triste la mira sul serio, hai visto poverina? Guardala che faccia che ha Poverina Povera Adesso invece vediamo Ruben cosa ti vuole dire Ruben Denise Guardala negli occhi però, guardala negli occhi Denise, tu a Torino e in Irlanda non troverai mai panini così Quindi, Nuran Capra Quanto sei spridosa Allora, ciao Denise Mi riconosce ancora, sono tuo padre Quando chiami gentilmente, prima che siano i nipotini a parlare con la nonna È priorità mia parlare con te Quindi gentilmente puoi farmi questa cortesia di farti passare subito a me Ok, poi adesso siamo qui a mangiarci un panino Poi la seconda ripresa la farò col patatino per farti venire l'acquolina in bocca come sempre Così ti ricorderai di noi E più che altro di me E ogni tanto scrivi, eh E dammi i tuoi notizi Denise, ti devo dire una cosa Veramente stavo parlando io Ah, vabbè Comunque, ciao Denise Visto che Ruben fa sempre come al solito Denise, stamattina ti sei connessa su Facebook Quando stavamo aprendo la chat Tu te ne sei scappata Sembra che ci riconosci A proposito di Facebook Che mi mandi a fare quelle cose là Tanto io non vado a applicazioni, non ne vado a leggere Che stai facendo? Mi ruzza dolce Guarda Che cos'hai? Che icco? Eh? Sei triste? Ti manca la tua sorellina? Mi dispiace chicca mia Vabbè ma adesso tra un po' viene amore mio Di noi ci mangiamo Così Oh vabbè Dai non ti preoccupare Adesso ci mangiamo il panino e ci passa la tristezza Va bene? Ok Ora vi chiedo a Denise una cosa Denise Il brutto presentimento era che il Dark Mini Pony saliva sull'aereo Rispondi poi su Facebook No su Facebook Ti fa direttamente il video Ah fammi il video A proposito la situazione con la tua mamma è rimasta invariata Mi manda sì richieste su Sull'applicazione che mi ha fatto fare Per la prima volta ho giocato alle applicazioni Va a bolla Ed è arrivato Più della mamma che ci gioca giorno e notte Però io avrei credito più un'altra richiesta Che è questa E io la conosco O magari O magari di dire che quello Certe volte si dicono parole che non si pensano Però io sono qua E aspetto Ciao Denise Salutate Denise Addio Saluta Denise Vabbè Denise Ci vedremo dopo mentre ci mangiamo il patatino Alla faccia Ciao Ciao Ciao